Doveva essere una proposta di matrimonio come se ne fanno tante al giorno d'oggi quella che una donna voleva fare nei confronti dell'uomo che amava, ma purtroppo si è trasformata in un'autentica tragedia. Si chiamava Yasmin Demir, stava in vacanza col fidanzato a Kanakeu, ci troviamo in Turchia, quando a un certo punto si è verificato l'incidente in questione, lui gli aveva appena chiesto di sposarlo, lei gli ha detto sì. Era sì che sulla scogliera per fare un picnic, per cercare il momento, il promesso sposo così si è allontano per qualche minuto per andare a prendere il cestino con il cibo lasciato in automobile, ma c'è stato un grido all'improvviso, è tornato indietro all'improvviso e ha visto la fidanzata che era precipitata giù dalla scogliera. Yasmin infatti è morta, ha fatto ben 32 metri di volo, è caduta in mare ed è morta il 6 luglio 2023. Era riuscita a sopravvivere di primo acchietto, però poi è morta subito dopo per i terribili e devastanti periodi che purtroppo ha riportato. Nonostante i medici abbiano cercato di fare il tutto per tutto per salvare la vita, l'uomo è rimasto scioccato, turbato, ma è già deluso e purtroppo non potrà sposarsi la donna che amava. Insomma, una tragedia che doveva essere in realtà una giornata la più bella e forse più bella della loro vita, ma il momento si è trasformato in un evento terribile e devastante. Da tardi teni tutto, Yasmin, Yasim, Demir, che tu possa riposare in pace.